Perchè la domenica si rinascano con una marihuana, stanno nel letto con la propria signorina Perchè non vanno in chiesa, non perdono il letto, forse tu cazzate Qua cosa è chiamata Church Eaton La pari dello Shaggy 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 Tutti i gang in scena di giri, tutti i road boy Voi che non ci fanno... ...e che ero i piedi in testa Come la storia! La storia in teoria Non ci fanno ragazzo Com'è mossa? Se vanno ad� chart persones Vabbati, aprile no? Al fine aprile, arriva Vegas a Roma, presto Presto Vegas, presto Roma Palla, non c'è per cia, valla valla Palla, non c'è per cia, valla valla